Presidio dei lavoratori della Tercop sotto al comune alla prefettura di Teramo. Questa mattina c'erano tutti in via Carducci in ballo il destino dei 28 lavoratori soci della cooperativa che gestisce i parcheggi a pagamento a Teramo che il nuovo bando per la gestione delle strisce blu pubblicato dal commissario straordinario Luigi Pizzi rischia di tenere fuori. Solo nove di loro rientrerebbero infatti a lavorare. Io sono uscito perché come rappresentante della Tercop non sono abilitato ad assistere alle discussioni sul bando. Abbiamo chiesto io come rappresentante dell'impresa alcuni aspetti contradditori del bando alcuni non abbiamo nemmeno avuto una risposta certa cioè perché questo fatturato incredibilmente alto addirittura si è iniziato a dire che la legge impone questo fatturato invece non vero caso cosa non vera. Ricordiamo la cifra. Il fatturato degli ultimi tre anni chiesto un fatturato sui parcheggi di un milione e cinquecento e rotti che noi abbiamo. Poi però oltre a questo fatturato chiedono un altro fatturato generale cioè più anche su altri servizi degli ultimi tre anni di due milioni e trecentomila euro. Noi invece ce l'abbiamo di circa due milioni e cento e quindi saremmo esclusi dalla gara. Si potrebbe fare un'ati ci hanno confermato ma a questo punto diventa ancora più assurdo nel senso un appalto che si è stato vantato di riservarlo alle cooperative sociali che sostanzialmente su questi requisiti non esistono o meglio se esisterà a Roma Capitale oppure a Milano non sappiamo. Insomma in Abruzzo non ci sono cooperative di questo tipo. Quindi le cooperative sociali che erano le protagoniste in teoria di questo appalto dovranno essere subordinate a imprese di capitali per poter partecipare. Quindi una restrizione ai cooperativi sociali può far locca e quindi praticamente perché a quel punto in mano ce l'avrebbe la società di capitali che garantisce tutto e non la cooperazione sociale. Addirittura pare che pure questa specie di possibilità di inserire servizi aggiuntivi dove si poteva giustificare praticamente maggiore occupazione e quindi un vantaggio anche economico per il comune che avrebbe dato in affidamento altri servizi. Pare che questa cosa legalmente non si possa fare. Noi ovviamente questi punti li approfondiremo anche con i legali nostri e verificheremo se quello che dice qualcuno qui dentro corrisponde al vero oppure se invece sono argomenti fittizi. C'erano anche i rappresentanti sindacali della CGL questa mattina che non hanno riscontrato nessuna apertura da parte del commissario Luigi Pizzi. Siamo esattamente allo stesso punto per cui avevamo proclamato questa iniziativa perché il commissario prefettizio continua a dire che lui ha rispettato le leggi ma le leggi sono tante purtroppo e anche confuse purtroppo. Quello che è certo è che il bando oggi che stanno preparando il bando oggi prevede l'assunzione di 9 persone, solo 9 persone e siccome il tutto è fatto in maniera tale che sicuramente si dovrà fare un'ati comunque comporre diciamo più soggetti. Quello che varranno saranno solamente i numeri quindi oggi stanno decretando che 17 persone sono senza posto di lavoro e che per di più queste persone hanno anche sulle spalle il debito che nel frattempo Tercop ha maturato a causa del fatto che la politica cittadina non è stata in grado, non ha voluto decidere. Quindi rispetto alle mancate decisioni e agli eccessi decisivi oggi ci sono persone fuori che purtroppo avranno un debito sulle loro spalle.